Ciao Marcello, ciao Deglio e tanto che non vi mando un video anche perché non riesco più a seguirvi perché non si riesce a prevedere Top Planet qua in Liguria e diventa difficilissimo e non ce la faccio a seguirlo streaming perché non ho il wifi in casa e quindi non riesco a seguirvi e vi seguo ogni tanto sul Top Planet il lunedì e il giovedì e dopo ieri sera la partita con il Real Madrid veramente che tristezza una roba del genere perché se succedeva l'incontrario anche a Torino il rigore non te lo davano anche perché hai visto bene che quadrato al 92esimo fallo da dietro non è stato fischiato il calcio di rigore quindi abbiamo anche la prova e comunque è stata una grandissima Juve ieri sera, non me l'aspettavo non avrei mai detto che potesse succedere una roba del genere comunque il miracolo l'ha fatto lo stesso e siamo stati grandi comunque il campionato lo vinciamo e la Coppa Italia è sempre una finale non si sa mai, è 50-50 però il campionato io sono più che convinto che lo vinciamo vi saluto, spero che tornate con un canale nazionale che vi posso riseguire di nuovo e niente, un abbraccio a tutti forza Juve, ciao Deglio, ciao Marcello, ciao a tutti e vinciamo il settimo di fila ciao